Mastro Chicot, l'albergatore del Preville, fermò i suoi tilburi innanzi al potere di zia Migluar. Era un uomo alto e vigoroso, di quarant'anni, rosso e panciuto, che passava per essere scaltro. Legò il cavallo al palo del cancello di legno, poi penetrò nel cortile. Aveva un potere attiguo alle terre della vecchia, e desiderava anche queste da molto tempo. Venti volte aveva cercato di comprarle, ma zia Migluar vi si rifiutava, con ostinazione. «Ti sono nata e ci morrò», diceva. La trovò che sbucciava patate innanzi alla porta. Vecchia di settentadue anni, era magra, grinzosa, curva, ma infaticabile come una giovinetta. Chicot le batte sulle spalle amichevolmente, poi sedette accanto a lei, sopra uno sgabello. «Ebbene, zia, e la salute? Sempre buona?» «Non c'è male. E voi, Mastro Prosper?» «Ah, qualche dolore. Se no, starai bene. Via, tanto meglio!» E poi non disse più nulla. Chicot la guardava lavorare. Le sue dita adunche, nodose, dure come le zampe di un granchio, prendevano come pinze i tuberi grigiastri in una cesta, e poi li facevano girare presto presto, togliendone via lunghe strisce di buccia sotto la lama di un vecchio coltello. E quando la patata era diventata tutta gialla, la gettava in un secchio d'acqua. Tre ardite galline se ne venivano l'una dietro l'altra fino alle sue gonne, a raccattare le bucce e a scappar via, portandone il becco e il bottino. Chicot pareva impazzito, esitante, ansioso, con qualcosa sulla punta della lingua che non riusciva a dire. Alla fine si decise. «Dite dunque, zia Migluar, che cosa comandate? Il potere. Non me lo volete vendere?» «Questo no, non ci pensate. E cosa detta, non ricominciate. Perché ho trovato un modo che farebbe comodo a tutti e due. Che modo?» «Voi me lo vendete e poi ve lo tenete lo stesso. Non ci siete arrivata? Seguite il mio ragionamento». La vecchia smise di sbucciare le sue patate e fissò sull'albergatore i suoi occhi vivi sotto le palpebre guelcite. Egli riprese. «Mi spiego. Vi do ogni mese centocinquanta franchi. Sentite bene. Ogni mese vi porto qui, col mio Tiburi, trenta scudi da cinque franchi. E poi niente è cambiato. Niente di niente. Voi resterete in casa vostra. Non vi occupate di me. Non mi dovete niente. Non fate che prendere il denaro che vi do. Vi conviene?» La guardava con aria gioiosa, con aria di buon umore. La vecchia lo considerava con diffidenza, cercando il tranello. Chiese «Questo per me. Ma voi? Il podere non lo avete lo stesso. Non vi preoccupate di questo. Voi restate qui finché il buon Dio vi lascerà vivere. Siete in casa vostra. Solo mi farete una piccola carta dal notaio, perché dopo di voi il podere tocchi a me. Non avete figli. Solo nipoti a cui non tenete. Vi conviene. Conservate il podere per tutta la vostra vita. E io vi do trenta scudi da cinque franchi al mese. Per voi è tutto guadagno.» La vecchia restava sorpresa e inquieta, ma tentata. Rispose «Non dico di no. Soltanto voglio farmi una ragione di questo. Tornate a parlarne nel corso della settimana che viene. Vi darò una risposta secondo l'idea mia.» E Mastro Scicò se ne andò, contento come un re che ha conquistato un impero. Zia Migloire restò pensierosa. Non dormì la notte seguente. Per quattro giorni ebbe una febbre d'egitazione. Subodorava certo qualcosa di male per lei nella faccenda, ma il pensiero dei trenta scudi al mese, del bel denaro sonante che sarebbe venuto a cadere nel suo grembiale, che le sarebbe piovuto dal cielo così senza dover fare nulla, la consumava dal desiderio. Allora andò a trovare il notaio e gli raccontò il caso. Questi le consigliò di accettare la proposta di Cicò, ma chiedendo cinquanta scudi da cinque franchi invece di trenta, perché il suo potere valeva, a dir poco, sessantamila franchi. «Se vivrete quindici anni», diceva il notaio, «lui non pagherà in questo modo che quarantacinque mila franchi». La vecchia fremette, alla prospettiva dei cinquanta scudi da cinque franchi al mese, però diffidava ancora, temendo mille cose impreviste, mille astuzie nascoste. E restò fino a tardasera a far domande, non potendosi decidere ad andarsene. Finalmente ordinò di preparare la scrittura, e tornò a casa turbata come se avesse bevuto quattro boccali di sidro nuovo. Quando Cicò venne per sapere la risposta, essa si fece pregare a lungo, dicendo di non volere, ma divorata dalla paura che gli non acconsentisse a dare le cinquanta monete da cinque franchi, finalmente alle sue insistenze disse le sue pretese. Egli ne fu contrariato e rifiutò. Allora, per convincerlo, essa si mise a ragionare sulla probabile durata della vita. «Non ne ho più che per cinque o sei anni, certamente. Eccomi, ai miei settantatre anni, e non in buona salute, inoltre. L'altra sera credetti di andarmene. Mi pareva che mi vuotassero il corpo, ma hanno dovuto portare sul letto. Ma Cicò non si lasciava prendere. Via via, vecchia birbacciona, siete solida come il campanile della chiesa. Vivrete almeno centodieci anni. Sarete voi a sotterrare me, sicuramente!» Tutto il giorno fu perduto ancora in discussioni, ma siccome la vecchia non cedette, l'albergatore alla fine consentì a darle i cinquanta scudi. «Firmarono l'atto il giorno dopo, e zia Migular volle dieci scudi di buona mano. Tre anni passarono. La buona donna stava d'incanto. Pareva non essere invecchiata ad un giorno, e Cicò si disperava. Gli sembrava di pagare quella rendita da mezzo secolo. Si sentiva ingannato, derubato, rovinato. Andava di tanto in tanto a far visita alla massaia, come si va in luglio, a guardare nei campi se il grano è maturo per la falce. Essa lo riceveva con una certa malizia nello sguardo. Ci sarebbe detto che si felicitava del bel tiro che gli aveva giocato. Ed egli risaliva presto sul suo tilburi, mormorando. «Non creperai dunque mai, vecchia carcassa!» Non sapeva che fare. Avrebbe voluto strozzarla vedendola. La odiava d'un odio feroce, dissimulato, d'un odio di un contadino frodato. Allora cercò dei mezzi. Un giorno, finalmente, se ne tornò a trovarla fregandosi le mani, come aveva fatto la prima volta, quando le propose il patto. E dopo aver chiacchierato per qualche minuto, dite dunque, zia, perché non venite a pranzo da me, quando vi trovate a Epreville? Fanno delle charle. Dicono che non siamo più amici. E questo mi dispiace. Sapete, da me non pagherete. Non vado a un pranzo. Finché ne avrete voglia, venite, senza cerimonie, che mi farete piacere. Zia Megular non se lo fece ripetere e l'indomani, andando al mercato, nel suo carretto guidato dal garzone Celestin, portò senza complimenti il cavallo nella scuderia di Mastro Chicot e reclamò il pranzo promesso. L'albergatore, raggiante, la trattò come una signora e servì pollo, sanguinaccio, salsicciotto, arrosto dicastrato e lardo con cavoli. Ma essa non mangiò quasi nulla, sobria dall'infanzia, essendo sempre vissuta un po' di minestre ed una crosta di pane imburrato. Chicot insisteva, deluso. Non beveva neppure. Rifiutò anche il caffè e gli chiese «Accetterete però un bicchierino? Ah, questo sì, non dico di no!» Ed egli gridò con tutto il suo fiato attraverso l'albergo «Rosalie, porta la fina, la sopraffina, la ha dieci fili!» E la serva comparve con una bottiglia, ornata con una foglia di vite di carta. Egli riempì due bicchierini. «Assaggiate, la zia! È squisita!» E la buona donna si mise a bere ad agio ad agio, a piccoli sorsi, per far durare il piacere. Quando ebbe vuotato il bicchiere, la sgocciolò a terra e dichiarò «Sì, è squisita!» Non aveva finito di parlare che Chicot versava un secondo bicchierino. Voglio rifiutare, ma era troppo tardi, e lo centellinò a lungo come il primo. Voglio allora fargli accettare un terzo bicchierino, ma essere esistette, e gli insisteva. «È un latte, vedrete! Io ne bevo dieci, dodici senza difficoltà!» Passa come zucchero. Niente allo stomaco, niente alla testa. Si direbbe che svapora sulla lingua. Non c'è niente di meglio per la salute. Siccome ne aveva molto desiderato, cedette, ma bevette solo mezzo, bicchierino. Allora Chicot, in uno slancio di generosità, gridò «Tenete, da chi vi piace, ve ne darò un fusticino!» Proprio per mostrarvi che siamo sempre buoni amici. La buona donna non disse di no, e se ne andò un po' brilla. Un giorno dopo, l'albergatore entrò nel cortile di Zia Migluar, poi trasse dal fondo della vettura un bariletto cerchiato di ferro. Quindi volle che provasse quello che conteneva, per farle vedere che era la stessa acquavite. E quando ne ebbero bevuto ciascuno tra i bicchierini, dichiarò andandosene. «E poi, sapete, quando non ce ne sarà più, ne ho dell'altra. Non fate complimenti! Non ci vado. Prima sarà finita, più sarà contento!» E risalì nel tilburi. Tornò quattro giorni dopo. La vecchia era innanzi alla porta, occupata a tagliare il pane per la zuppa. Si avvicinò, la salutò, le parlò da vicino per sentire il fiato, e riconobbe un alito d'alcol. Allora il viso gli si illuminò. «M'offrirete un bicchiere d'acquavite?» disse. E trincarono due o tre volte. Ma presto corse voce nella contrada che zia Migloir si ubriacava da sola. La raccoglievano ora in cucina, ora in cortile, ora nelle strade dei dintorni, e si doveva riportarla a casa, inerte come un cadavere. Chicot non andava più da lei, e quando si parlava della contadina, mormorava con una faccia triste. Non è una disgrazia alla sua età aver preso questa abitudine. Vedete, quando si è vecchi non c'è rimedio. Un giorno di questi le giocherà un cattivo tiro. Le giocò, infatti, un cattivo tiro. Morì l'inverno seguente, verso Natale, essendo caduta ubriaca nella neve. E Mastro Chicot editò il podere, dichiarando «Quella zoticona, se non si fosse alcolizzata, ne avrebbe avuto per dieci anni di più». Grazie. 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 Grazie.